Un omicidio volontario, feroce ed efferato, quello che ha portato la morte di Lorenzo Puccillo, il settantenne medico sociale della Z Picerno. Sono queste le parole con le quali ha descritto i fatti il procuratore capo della Procura della Repubblica di Potenza, Francesco Curcio, che stamani ha convocato la stampa per un accorato appello a chiunque sappia qualcosa di parlare. Continua dunque a tingersi di giallo la vicenda della morte di Puccillo. Non è stato un incidente di caccia, ci ha tenuto a sottolineare Curcio, ma sentiamo le sue dichiarazioni. Rivolgiamo un appello alla cittadinanza, abbiamo alcune indicazioni che possono essere utili a chiunque abbia un ricordo, abbia visto qualcosa la mattina del 21 marzo di quest'anno. Il delitto è avvenuto appunto quella mattina, non oltre le ore 10. Sappiamo che il dottore alle 6 e mezza già era attivo, operativo e stava nel centro di Pesco Pagano, nella piazza principale davanti al comune dove ha consumato la colazione. E sappiamo che poi, come sempre, si è recato ad alcuni chilometri di distanza in una zona isolata di montagna dove gestiva una masseria, la masseria Miele, che si trova in località Cucumiello, sempre del comune di Pesco Pagano. Allora l'appello è che chiunque abbia notato il passaggio di qualcuno, di qualche macchina, qualche rumore insolito, qualche urlo, qualche grido, qualsiasi cosa che è rimasta impressa nella memoria. Chiunque quindi ha qualche informazione può andare sia presso i carabinieri di Melfi, sia presso la procura della Repubblica. Noi ascolteremo tutte le informazioni e cercheremo di ricostruire il mosaico dei fatti.